Foccafù! Ma che direi? Ma dove vai con questo pannello figo? Sì, cosa direi? Con questo pannello figo va a Napoli, la città e mi cassa una motorezza, un'automobile e cinque casunette Niente meno, con il pannello figo ha accaduto tutte queste cose Ossè, è detto solo Massuntino che adesso con una figa si è accattato tre appartamenti